Da diverso tempo subiva insistenti richieste di denaro dal figlio che sfociavano in atti vessatori e violenti se si rifiutava di consegnare i soldi. Una situazione insostenibile che ha indotto il padre di un 43enne sulmonese a presentare al locale commissariato una denuncia querela per lesioni aggravate nei confronti del figlio. Ora l'uomo non potrà più avvicinarsi al genitore perché lo scorso venerdì il personale della squadra anticrimine del commissariato di polizia di Sulmona ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal GIP del Tribunale dopo le indagini svolte dalla polizia. Ovviamente sui nomi sia del padre che del figlio c'è il massimo riservo per garantire la privacy in quanto il genitore è titolare anche di un'attività commerciale. L'ordinanza di divieto stabilisce che l'indagato debba tenersi ad una distanza di 200 metri dall'abitazione e dall'attività commerciale del querelante con il quale non potrà più comunicare.